Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi faccio vedere il secondo gioco della serie di Sherlock Holmes, consulente investigativo, di cui, se vi ricordate, vi avevo già parlato al tempo quando avevo fatto i delitti del Tamice. Vi avevo detto che c'era un secondo gioco stand alone, perché non sono espansioni, non ha bisogno di prendere il primo, con una scatola azzurra. E questo è proprio un gioco nuovo, non è un'edizione di quello vecchio, andando a prendere magari il primo consulente investigativo uscito ormai da diversi anni. E' uno stand alone, lo potete giocare tranquillamente da solo, però ci sono riferimenti al gioco precedente. Ora, i casi li potete risolvere uguale, però se avete giocato il gioco prima farete sicuramente il 50% e meno della fatica, quindi vi consiglio di prendere tutti e due, tanto comunque si trovano anche spesso in offerta o insieme. Comunque questa è la versione Cartoon House e Queen's Park, edizione italiana come sempre a cura di Asmo d'Italia, che io ringrazio di cuore per averci offerto questa copia per la recensione, e grazie ragazzi, è sempre un mega onore collaborare con voi. Grazie di cuore. Qua dentro c'è la mappa di Londra, ovviamente che è la stessa dell'altro, tre mappe aggiuntive, perché qua dentro trovate anche mappe nuove, di location nuove, magari di edifici, soprattutto Cartoon House, per farvi un esempio, visto che è citato, e quindi trovate proprio mappe di altri luoghi, che magari in certe missioni seguono anche altre regole, perché ad esempio più tempo passerete a esplorare Cartoon House, soprattutto nelle missioni finali, più tempo passerà in gioco, e poi passerà un giorno intero, e avrete, tipo non mi ricordo se nell'ultimo caso, due o tre giorni per risolvere il caso, altrimenti sarà missione fallita. Giornali, che sono dieci, uno per ogni caso, e poi anche qui ci sono dieci nuovi casi da risolvere. Il funzionamento è lo stesso di i delitti del Tamici, sempre come consulente investigativo, e vi dico che tra non moltissimo non è ancora confermata la data, però entro il 2020, e penso di rivederlo fra qualche mese, arriverà il terzo stand-alone della saga di Sherlock Holmes, consulente investigativo, sempre ovviamente da Asmod Italia, che tratterà del caso più bello della storia, perché ovviamente si va in quegli anni lì di Sherlock Holmes, la prima cosa che ti viene in mente cos'è? Whitechapel. La prima cosa che ti viene in mente qual'è? Jack lo squartatore. E infatti si cercherà proprio di risolvere il caso e tutti quanti i misteri che alleggiano intorno a Jack lo squartatore, Jack the Reaper, infatti non vedo loro assolutamente, lo voglio proprio a bestia. E qua dentro, qualche giornale, quando andate a leggere i giornali dentro, ci sono gli omicidi di, appunto, Jack the Ripper, Jack lo squartatore, quindi già qualche riferimento c'è, e per forza di cose, ragazzi, non potevano non fare un, me ne da dire espansione, ma non lo sono, comunque un gioco a parte di consulente investigativo, veramente dedicato ai casi degli omicidi di Jack lo squartatore a Londra. Vi faccio vedere un pochino cosa c'è dentro, anche se il contenuto poi è lo stesso dell'altra scatola, ma comunque, unboxing, scatola questa volta con la colorazione blu, vedete, sempre il font, mi piace veramente da morire, e vedete i lenti di ingrandimento, insomma, e tutti gli attrezzi per risolvere i casi di Sherlock Holmes, Cartoon House e Queen's Park. Anche questo si apre sempre alla stessa maniera, e all'interno c'è un fogliettino scritto da mia moglie. Togliamolo. Togliamolo direttamente, che non abbia spoiler né niente. Qui c'è il caso 3, perché ovviamente mia moglie stava già arrivata fino al terzo caso. Comunque, avete sempre l'annuario di Londra, che è lo stesso come nell'altro gioco, quindi avete tutti quanti i nomi delle persone, con i numeri accanto, quindi le location dove si trovano, e qua giù, in fondo, invece, avete la lista per categoria. Quindi, se volete andare a fare delle domande a un prete, andate nella sezione chiesa, guardate il nome del prete se corrisponde, andate a vedere se nel manuale della vostra missione, del vostro caso, c'è quel numero lì. Se c'è, non per forza è una prova, però avete interazione. Se non c'è, vuol dire che con quel numero lì, con quella chiesa, con quel personaggio lì, non c'è interazione in questa avventura. Abbiamo ancora una volta la mappa di Londra, divisa in punti, e al solito quando visitate un punto e non c'è nel librettino della missione, vuol dire che non c'è assolutamente interazione. Regolamento di gioco. Anche questo, se avete letto il primo, non lo leggete, infatti noi non si è neanche letto dopo il primo, però, ovviamente, l'introduzione, quella leggetela sempre, perché è la parte più importante, e soprattutto che vi introduce ai nuovi casi. Poi, vabbè, vi dà le regole sul punteggio, vedete il calcolo e tutto quanto. Quindi questo, comunque, almeno la parte di introduzione narrativa, leggetela. Tutti quanti i giornali del giorno, dei vari casi, e, come vi avevo già annunciato nel video precedente, a differenza della prima versione, del primo gioco, o di Eliti Delta Amici, non sono duble fasse. Quindi qui i giornali sono soltanto su una faccia. E come vi dicevo, oltre alla mappa di Londra, qua giù abbiamo anche altre mappe alternative, tra l'altro disegnate veramente benissimo. In questo caso qui abbiamo la mappa di Carton House. Vedete, c'è il semi interrato, il primo piano, e poi tutte le altre stanze. Ce ne sono anche altre. Poi abbiamo tutti quanti i libretti dei casi, quindi caso 1, caso 2, caso 3, che è quello all'inizio che sta facendo attualmente mia moglie, e tutti gli altri che poi vengono successivamente. Addirittura c'è anche una busta chiusa, bellissima, sembra veramente una busta dell'epoca, guardate che spettacolo, che questo è legato ad un caso. Quindi quando farete il caso, dovrebbe essere il quarto o quinto, una cosa del genere, quando farete quel caso lì vi dirà, ok, vi è arrivata questa busta da lettere, apritele e guardate cosa c'è dentro. Un'altra figata disumana. E il contenuto della scatola, ragazzi, insieme ai giornali, e tutte le altre cose che ci sono dentro, a parte qualche piccola aggiunta, come quella busta lì delle lettere, magari la mappa, con qualche nuova location da visitare, poi è la stessa del gioco di base. Ragazzi, ho messo tante cose, una cosa in particolare, non è un tutorial, anche perché vabbè, c'è da far poco di tutorial in un gioco del genere, però i tutorial non li voglio fare sul canale, non mi interessano, voglio sempre fare infarinature, e cercare di farvi capire se il gioco può fare per voi o no, senza starvi a spiegare 40 minuti di video, tutte le regole possibili, immaginabili, e poi magari il gioco non vi interessa. È anche impossibile farci dei gameplay, perché, ve lo spoiler, questo è veramente un gioco più che Legacy. Giocate una volta, al caso lo sapete qual è, è impossibile rigiocarlo, anche se lo potete far giocare a qualche amico, o magari, secondo me è una cosa bellina, potreste far fare, tipo, non siete Sherlock Holmes, ma, fra duemila virgolette, fate fare Sherlock Holmes, o comunque l'investigatore capo, al vostro amico, e voi, già sapendo come va avanti la storia, li fate Watson, li state accanto, e magari ogni tanto gli date qualche piccolo indizio, lampo di genio, potrebbe essere bellino. Comunque, anche questo, ovviamente, se devo dargli un voto, 10 su 10, perché ovviamente, a me e mia moglie, ci è piaciuto da morire, ma non è il fatto di, che magari possa essere più bello, di tanti altri giochi usciti, perché, ad esempio, a me come tipo di gioco, col fatto dell'Apple 3D, l'occhialino, l'interazione, io adoro, Chronicles of Crime, ma questo è più bello, perché, quando andate a fare un gioco, il gioco deve fare quello che si, prefigge di fare. Se io vado a fare un gioco horror, mi aspetto che ci sia un bel contenuto, magari stealth, che mi devo nascondere dal mostro, magari che, ci possono essere dei momenti, dei jumpscare, magari con un'app, cose particolari. Se vado a fare un gioco horror, me lo passano come tale, poi magari devo stare a distruggere, trilioni di miniature, tirando dadi come un matto, magari secondo me il suo lavoro lo fa, però lo fa fino a un certo punto. Questo è un gioco investigativo, e fa tutto quello che dovrebbe fare un gioco investigativo. Punto più importante, soprattutto farti iscrivere. Cioè non c'è un'app che ti tiene conto, appunto, delle scelte che hai fatto, ma te le devi iscrivere te. Quindi se un dettaglio non l'hai visto, magari non ci hai fatto attenzione, perché l'hai letto, magari in un momento eri stanco, una cosa del genere, e non te lo sei segnato, magari ti salta al caso. Quindi per provetti investigatori, veramente, persone a cui piace, veramente Sherlock Holmes e l'investigazione in particolar modo, risolvere casi, delitti, gialle, cose del genere, è il gioco, ragazzi, e ancora una volta, se vi piacciono giochi di questo genere, fiondatevici. Quindi 10 su 10, non meritato, strameritato. A maggior ragione, se avete fatto tutti i giochi per computer, e penso qualcosa che succede anche per console, comunque, di Sherlock Holmes, ancora meglio, cioè ancora punti a suo favore. Consiglio spensierato, prendetelo e giocatelo tranquillamente, però ci sono tanti riferimenti al primo gioco, i delitti del Tamici, che non è che vi precludono di risolvere il caso, però sicuramente magari, scatta fuori un nuovo personaggio, oppure viene fuori un vecchio posto, un vecchio caso che avevate già risolto. Ah, ti ricordi? Aspetta, però questo tizio che ora è qui, che ha visto, aveva visto anche di là, vi faccio un esempio, quindi come ha fatto a vedere tutte e due i casi, ma lui è sempre presente, cos'è un vecchietto che va a vedere i cantieri. Quindi, alla fin fine, secondo me, se li dovete prendere, è meglio prendere tutte e due, o, se lo dovete prendere, tanto vale iniziare dal primo, e poi magari passare direttamente a questo. Non sono collegati, però comunque un filone narrativo c'è, commettiamola così, però potete giocarlo anche a parte. meritatissimo, ringrazio ancora una volta l'Asmo d'Italia, per avermi offerto questa copia per l'escensione, grazie ragazzi, veramente di cuore, e fatemi sapere cosa ne pensate. Primo link in descrizione dove acquistarlo, e poi tutti quanti i nostri social a seguire. Ciao ragazzi, alla prossima.